Sono stati ufficializzati gli orari per i prossimi mondiali di hockey su pista che si svolgeranno a Novara. Nelle fasi di qualificazione l'Italia maschile giocherà alle ore 21 e l'Italia femminile alle ore 19. Anche la nazionale italiana Under 19 alle ore 21 dall'8 al 10 settembre dal Lago. Sono stati anche fissati i parasport dove verranno disputate le gare. Nelle fasi di qualificazione si giocherà alle 21 per la nazionale italiana senior maschile al Pala Igor, alle 21 per quella femminile Under 19 al Pala Dal Lago nella prima settimana e dalle ore 19 per la nazionale italiana senior femminile al Pala Dal Lago. Sono state definite anche le fasi di gioco nei rispettivi campi. La nazionale Under 19 giocherà la fase di qualificazione al Palazzetto Stefano Dal Lago mentre la seconda fase all'Igor. La nazionale senior femminile giocherà la prima fase al Stefano Dal Lago mentre la seconda al Pala Igor dove si giocheranno interamente i quarti e successivamente solo le migliori quattro rimarranno a giocare sul rinnovato parquet novarese. La nazionale senior maschile giocherà tutto il suo mondiale al Pala Igor.